La famiglia ed il valore dell'equilibrio in tempi di vita, questo è il convegno promosso dall'Ordine degli Avvocati di Bari e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Bari per fare un'analisi a 360 gradi su un tema oggi più che mai attuale, dinamiche di un rapporto di coppia, punti di forza, debolezza, capacità di gestione. L'evoluzione sociale porta a una nuova visione della famiglia e delle famiglie che va tutelata e per la quale naturalmente è necessario avere anche un continuo contatto con l'avvocatura che nel ruolo sociale che ha imprescindibile per la società e anche il ruolo di ascolto per il cittadino cliente, il ruolo di consiglio per il cittadino cliente quindi per la tutela dei diritti è un soggetto assolutamente necessario. Oggetto di discussione è anche il libro Matrimoni e patrimoni con l'autrice in questione che cerca di individuare delle chiavi di lettura anche per il futuro riflettendo e basandosi sul presente. Affronta il tema delle sfide diciamo economiche, patrimoniali e anche matrimoniali che ci attendono in questa epoca nuova. Io ho letto il libro, posso dire che l'ho divorato proprio perché di fatto offre uno spaccato a 360 gradi della società e in modo particolare si concentra su queste questioni spinose nella vita matrimoniale però guardandolo in quell'ottica di genere, con uno sguardo più all'origine di quelle che possono essere le difficoltà e le problematiche da affrontare.